Anche a Napoli, dopo la sperimentazione avviata con successo in diverse città italiane, arriva l'app WeTaxi per chiamare e prenotare il taxi e conoscere in anticipo il prezzo massimo della corsa. È un modello di mobilità intelligente, lanciato nel 2017 a Torino, che consente alle cooperative e ai radiotaxi di offrire un miglior servizio ai clienti, coniugando trasparenza, professionalità e tecnologia. Noi immaginiamo di avere in città un trasporto pubblico, quindi di linea o non di linea, che diventi l'elemento portante del trasporto per il cittadino, perché questo succede, deve essere integrato con tutte le altre modalità di trasporto e quindi tutte queste applicazioni nuove e intelligenti consentono l'integrazione. Con WeTaxi l'ho incontrato anche un po' di tempo fa e una delle possibilità di questa piattaforma che mi interessa molto è quella anche relativa al taxi collettivo, la possibilità appunto della condivisione del taxi. I vantaggi per l'utenza sono grandi. WeTaxi porta una piccola rivoluzione in giro per l'Italia che è la trasparenza, oltre chiaramente alla comodità di poter prenotare un taxi tramite un'app e di poterlo pagare tramite i più comuni sistemi di pagamento elettronici. Ma la vera novità è poter sapere sempre in anticipo quanto si spende. Quindi per tutti gli utenti che pagheranno tramite l'applicazione, WeTaxi sarà in grado di dire in anticipo qual è il costo della corsa, qual è il costo massimo della corsa. Chiaramente il nostro servizio si integra con le predeterminate del comune, quindi questo succede solo laddove non esista una predeterminata del comune. Ma questo permetterà anche a clienti che oggi non utilizzano il taxi, anche perché non conoscono quanto costa, di poterlo utilizzare. Attraverso l'applicazione WeTaxi, che si installa gratuitamente sullo smartphone, è possibile infatti richiedere la propria corsa, prenotarla ed utilizzare diverse modalità di pagamento. Qualsiasi tipo di carta di pagamento, che sia di debito o di credito, quindi anche le prepagate, e poi ancora in più Paypal, SatisPay e soprattutto il credito WeTaxi. Il credito WeTaxi è un borsellino elettronico che sta sulla nostra applicazione, che può essere ricaricato facilmente dal nostro sito internet, pensato ad esempio per i genitori, mamma e papà che il fine settimana si svegliano durante la notte per andare a prendere figli, oppure ancora peggio, stando nel letto con l'ansia che si guidano ubriachi oppure no. Bene, può non succedere più. Mamma e papà possono caricare il credito WeTaxi e sapere che i figli, quei 20 euro li potranno spendere solo per tornare a casa. A Napoli l'iniziativa trova favorevoli gli oltre 400 tassisti di consortaxi e fino al 30 aprile, in occasione del lancio del servizio, ci saranno 5 euro di sconto sulla prima corsa ed una riduzione del 20% su quelle effettuate il venerdì per tutti gli utenti che pagheranno attraverso l'app WeTaxi. La location quest'anno del Salone del Libro, voluto dalla città di Napoli, è il bellissimo Castel Sant'Elmo e quindi raggiungiamo San Martino mettendoci in taxi. Presentiamo un'iniziativa congiunta di natura culturale e anche ad un'altra, di natura più legata alla vivibilità serale, alla movida e alla sicurezza dei più giovani.